Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi per nostra sfortuna non c'è Sara e vi avevamo promesso che facevamo, creavamo qualche mappa però ci siamo accorti che ci servirebbe più di un'ora per farlo e quindi abbiamo scelto, visto che siamo in due oggi, di fare una coppia normalissima. E oggi siamo insieme alla Benedetta. Ciao! Vai, metti pronto bene. Sì, stanno pronti. Ah, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un botte di like. Cioè, noi dobbiamo arrivare a cinque, poi dovete metterne altri. Dobbiamo superare cinque. Sì. Nel prossimo video porteremo... Forse è uno scherzo, poi vedremo. Però la, cioè, la vedo un po' male. Sì. Perché è difficilissimo fare le scuole. E nei prossimi prossimi video vedrete solo la Sara e la Giada, perché io farò via. Però poi tornerò. Lei sarà un attimo in ferie al mare. Però poi, tipo, dopo o una settimana, no, sei giorni o una settimana, eh, me li vedrete. Ok, nemmeno a stiapi? Vai. Eh, sì, vai. Ragazzi, dovete dirci come si fa a mettere il codice di creatura, almeno poi possiamo aggiungere anche il nostro. Sì. Se qualcuno lo sa, te lo dica nei commenti. Se no, andremo a cercare noi su internet. Sì. Lo so. Lo so se potrà essere utile. Però dovremmo pensare anche come è, come è il nostro. Sì, dovremmo ancora pensare come... Perché prima dobbiamo sapere come se si può fare, Poi... Quella appunto si fa. Vero? Sì. Bra. Ah, scrivo la stasera, se proprio qua. Vedrò qua. Manco una cassa. U, R blu e R verde. Questa qui sarà una partita normale, eh, tranquilla, quindi... Ed è la nostra prima del giorno, vero? Sì. Partita vera. C'è gente in casa mia. Hai riuscito a riuscire? Sì. Fatto? A terra. Controlo dove è il compagno. Eh, davanti tu! Non so. No, no. Eccolo. Ma io non capisco la gente. Ma... Ma che un po' ne è? No! Cosa? Cosa? Non ci credo, no, 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 mi faceva più il pompa. È un scarico? No! Ragazzi, se hai sentito il rumore strano, sto bevendo, eh. È qui sotto, eh. Sì, non so se riesco a cipolle. Grande, bene. Sono qui. Sì, va bene. Vai. Ho 18 di vita. Ok. Sì, sì, sta qui. Poi ti posso dare lo scudone. E io c'ho cinque bende. Dai, uno scudone. Vai, adesso. Sì, dovrebbe metterlo. Te, beh, no, vipè. Ah, che bello. Ah, ho un altro scudone. Perfetto. Full. Allora, io sono full. Siamo anche in safe, perfetto. Ve lo 23. Bene. C'è un altro tipo con... Una specie, quello lì del coniglio. Però senza... Il martello. La skin, ecco sì. Grazie. Ma... L'hai visto? L'ha visto, però l'ho lasciato in pace. Perché sono buone. Mamma mia, ragazzi. Non potete capire che... Oh, si state ad aprire la porta? Non lo so. Hai aperto una porta? Tante porte. Vediamo. Vai, prendete anche il full. Ah, questo mi lo fanno io, allora. Sì. Ce l'ho già, ce l'ho già. No? Oh, vai prendere quei robin. Cosa? Quelli, questi qua. Ci sono fortissimi. Allora, io mi le prendo questi set e quelli altri set, però. Vai. E' molto, molto utile. Vai. Abbiamo anche la sfida di raccogliere frutta. Raccogliere frutta. Cioè, non so se l'hai già fatta. Credo proprio di sì. Ah, no, vabbè, mi sono andata, sono fulla con i cavoli, quindi... Ah, ok, io sono andata fulla con i cavoli. Io sto prendendo lo shield e... Eccolo, sì. Vai, tieni. Sperate. Vai, grazie. Allora, dovrebbe essere la patita tranquilla, però sta diventando bella. Molto bella. Cioè, tranquilla... ...fino a un certo punto. Eh, sì. Qua diventerà tragica. Non c'è nessuno. Eh, so... Eh, ma oggi sono una coppia, se mi sguardo. Boh, forse è anche di qua. No, io c'ho il bolt action. Pungo e poi no. E il magic. Eh, la posso prenderla. Eh, manco io. Piccolo loot? Vai. Allora. AR blu. Eh, tattico verde. Vigalletta blu. Caccia blu e sei cavoli. Allora, io c'ho... Un pompa bianco. Tac bianco, vabbè. Un bolt action blu. Blu. Poi c'ho... Una... Traglietta bianca. Tre cavoli e sette bende. Ok. Guarda che mitraglietta c'ho. Come stai... Ah, è il P90. No, non è il P90. Cos'hai? Guarda. Aspetta, eh. Li troviamo lì. Vai. Guarda. Aspetta, ma c'è... Ah, questa? Sì, ho alterato l'arma. Ah, è. Non ti consigliamo, però, vabbè. No, a me piace... Cioè, mi garba di più questa. Cioè, mi trovo meglio. Siamo in safe? Sì. Non so, c'è un cacchio democcazione reale, eh. Ah, sì, brava. Fuori manca senza. Io mi avvio. St'ha vinto. Boh. Guardo quella... Quella soletta. Oh, un vampire. Epico? No, verde. Ah, la mia è la R. Oh, no. Eh, no. L'ho l'ho t'ho bellissimo. Devi farmi anche lo scar. No, scherzavo, non sono in safe. La tempesta è inghiottito. C'è che farmi una 17. Non ci credo mai. Cosa? Cosa vuol dire? Che uno è morto dalla tempesta. Ah, vabbè. Eppure farmi un sacco di cose belle. Questo non lo vedremo in foto. E anche tanto ferro. Cioè, no, io il ferro me lo devo fare. Allora, se ti fa quello lì e io ci vuoi subire. Allora, non ci vuoi. Noi, non ci vuoi. Oh, no. Oh, no. Allora, non ci vuoi. Allora, non ci vuoi. veda qui dove è lì alla vittoria finga è lì l'anno legge la squadra di botti no scappa scappa via 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 ci hanno visto ci sparano mi sa c'è la squadra vera squadra vera a no tutti scudo su no no quello non è vero è la cosa è un hacker quello perché perché l'ho preso in piano 30 milioni di volte segnala metti il capino fuori ciccio vai non ci credo ma che se ne vada a fare la hack che da no ecco era come succede avevo messo il muro giuro avevo messo il muro ma cercherà il test sta giampando se minchia o è bella scena colori dell'amo bella sembra un po la sciocco è la box per caso che non ha il mio lutto cosa mitico ce l'avevo vabbè vabbè ragazzi iscrivetevi nei commenti se vi è piaciuta questa questo video noi vi lasciamo così anche se siamo arrivati ottavi però vabbè capito e ci vediamo in un prossimo video ciao